Sentire il bisogno di tagliare, no? In alto, sì. E tagliare in modo che questo soffitto, come dire, non appoggia su una parete ma su qualcosa di smaterializzato, no? Questa striscia luminosa di finestrini dove ho dovuto mettere il doppio vetro perché i piccioni, una volta c'erano i piccioni, i piccioni venivano tutti qua e tu vedevi sempre loro, le loro ciene, le loro cose che ce le sfregavano e quindi ho dovuto mettere il doppio vetro. Poi il comune di Milano ha cambiato perché si vede che i piccioni avevano stufato tutti gli abitanti e allora hanno messo le cornacche che sono molto più discrete, autonome, fanno le loro cose. Disturbano meno? No, disturbano molto meno, infinitamente meno.